Buongiorno e buonasera, qui c'è da Yoshi e siamo a una nuova puntata di Super Mario World nell'ultima puntata abbiamo fatto esplodere una fortrezza di nuovo abbiamo esplorato una nave abbandonata ho fallito a capire dove era l'uscita segreta prima, adesso ho capito come fare non ho neanche dovuto guardare un video, è bastato vedere il thumbnail su un video su Youtube ho capito tutto quello che dovevo fare ora vediamo se mi riesce allora con un guscio in mano come si può vedere la velocità è molto migliore oh cacchia rola vai su cerchiamo di non fare casino ok scendi oltretutto non c'è pericolo di non c'è pericolo di schiantarsi contro qualcosa e perdere il guscio perché niente di questi tra i nemici che è inclusi in questo livello può essere ucciso dal guscio quindi spero sia vero anche per i torbedo spero no 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 andiamo ok adesso spero di arrivare lì entro i 100 secondi perché è quello lì no madonna lo sapevo dovrei senza problemi in realtà vediamo mi sa che sarà aia uh arrivo no perso tempo no non ci siamo non ci siamo devo andare più veloce dai sali idiota ah abbiate pazienza in realtà non mi serve neanche quella stella lì posso salire ok vedendo qui vedendo di arrivare là oltre i oltre le cose blu prima dei 100 secondi così posso aia ok ma dai no 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 dai non è possibile ah cacchio ok molto meglio andiamo avanti passa sotto sopra uh ok dovrei avercela fatta stavolta oh finalmente ok ce l'abbiamo fatta e star rod ok ora possiamo andare avanti odio questo non dovrebbe essere troppo difficile vediamo ecco il drago della fiamma xan b può essere sconfitto buttandolo dentro l'acqua ok ho capito fammi prendere lo switch brutto oh che cacchio no oh no cacchio oh ok 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 allez ok 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 Ah, sì, mi ricordo di questa. Chissà se riesco a prendere la sfera qua. Sì, mi ricordo di... Sì, mi ricordo dove è. Cazzo, è vero, ci sono un torpedo qua. Morco cane. Dimentico sempre. Oh, guarda, posso spostare sotto? Vediamo. Non importa qualche parte. Ok, no, non mi importa nessuna parte. Oddio, è che va bene così. Mi sento andare di qua. Ma cosa vuoi? Ma lasciami pace. Va. Andiamo velocemente a prendere la luna, giusto per... Prendo qua. C'è ora? Big Sun B? Eh già. Ok, questo è impegnativo anche. Dobbiamo sapere che cacchio si sta facendo. Aia. Ma dai! Con cosa? Di solito mi rifugio in quest'angolino. E salto ogni volta che una delle fiamme mi salta addosso. Di solito funzione. Per questa terza signora e per questa quarta signora. Ok. Tre colpi. Eh, per questo drago. Quindi è facile. Anche se sembra un uccello. Allora, non ho bene. Ok. ora vediamo cosa c'è da fare non mi or-mi oriento perché devo capir' un attimo infatti non si può passare qua vorrei parlare una cosa così non funziona niente porcate basta dai Andiamo di qua Sto bene Ah Mastardi devo correre bene Perché sennò mi ciulano Mi hanno tipo trapassato in tutti e tre Non so cosa è successo Ah si Una fontanella Credo che venga da Kirby con l'arbri Ok Wendy Wendy è facile Banale Tornato a Harry E' sufficiente schivare Ah non mi aspettavo E' già finita Facile proprio Mario è passato l'intera notte con Wendy In cambio ha ottenuto un altro grande uovo di Yoshi Bene Ok Questo è simpatico Ok Fine del terzo mondo Grazie di avermi seguito Io sono Shadow Yoshi Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Mettete mi piace O iscrivetevi al mio canale Detto questo per ora è tutto Perciò ci rivediamo in un prossimo video Bella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti